Sappiamo dell'importanza della gara, la stiamo preparando come se fosse una finale. Ho detto ai ragazzi che per loro sicuramente sarà la partita della vita e che solamente se riusciremo a far diventare la partita della vita anche per noi allora probabilmente a parità di motivazione, a parità di stimoli forse la qualità ti può far vincere la gara ma solamente se sei sullo stesso livello di attenzione, di determinazione, di intensità anche perché il nostro modo di giocare richiede queste caratteristiche. È una squadra che ci può creare difficoltà, hanno tre giocatori offensivi soprattutto i due attaccanti esterni molto veloci uno più portato ad accentrarsi, uno un po' più da binario sulla destra una squadra molto brava a ripartire perché davanti sono tutti veloci è una squadra che però è portata a comandare la partita, a fare gioco, quindi a aprirsi quindi volendo anche a concederci qualche spazio ma sicuramente sono avversari che stanno bene quest'anno hanno giocato 20 partiti ufficiali, ne hanno vinte 18 e pareggiate 2 quindi grandissimo rispetto, rispetto senz'altro sì ma anche consapevolezza delle proprie possibilità Io credo che i quattro centrocampisti che ho a disposizione possano giocare insieme tranquillamente, ruotare tranquillamente sono giocatori completi, nel nostro modo di giocare non è così importante averne uno un po' più difensivo, uno un po' più ragioniero, uno un po' più incontrista abbiamo bisogno, ho bisogno di giocatori intelligenti che sanno stare bene in campo che sanno legare bene il gioco, che sanno costruire bene, difendere bene e tutti i quattro hanno queste buone caratteristiche di più Krunic è molto disponibile e Krunic lo considero un po' anche un jolly perché può occupare anche posizioni un po' più alte rispetto agli altri centrocampisti quindi sta bene, è a disposizione anche lui e quindi credo che siamo coperti in quella posizione Mi ha stupito la sua già buonissima condizione perché nella settimana precedente al primo preliminare a Dublino aveva avuto qualche piccolo acciacco non aveva potuto disputare, alzare un po' il minutaggio nelle amichevoli e quindi alzare il suo ritmo quindi pensavo che potesse accusare qualche difficoltà in più e invece Zata si è fatto trovare pronto, preparato sia mentalmente sia fisicamente e poi dopo le sue qualità tecniche chiaramente lo aiutano tanto sia il collettivo sia i singoli sono cresciuti ma questo va rispettato ed è una conseguenza del lavoro che stiamo facendo ed è una conseguenza soprattutto delle qualità dei giocatori che ho a disposizione abbiamo tante possibilità di crescere ulteriormente di migliorare ancora tante situazioni ma solamente lavorando con consapevolezza della maglia che vestiamo con la consapevolezza delle qualità che abbiamo e delle responsabilità che abbiamo allora se siamo tutti così coinvolti tutti così partecipi tutti così uniti allora credo che potrà essere una stagione positiva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.